Ora c'è il film di Bon Marley che praticamente, finalmente, dopo tanti anni ricominciano a parlare di Bon Marley e ci dicono le sue parole non credere a tutto quello che dicono, non ascoltare i media, cerca la pace e l'amore e non usarmi come business, ma fai veramente quello che ti dico questo diceva Bon Marley Babylon, sta bruciando ora, non stiamo giocando responsabile ogni persona dovrebbe esserlo e in media non parlano la politica pensa soltanto ai propri interessi chi sta governando spende miliardi per fare guerra invece di investire sulla soluzione che è molto vicina ma ti posso assicurare abbiamo la tecnologia per arrivare per creare uno scudo, uno schermo da questi raggi cosmici perché il nucleo si sta alimentando e tra pochi mesi entrando in questo ciclo che succede ogni 12 mila anni ti puoi informare nelle scritture nei carottaggi anche sulle rocce e puoi trovare l'informazione reale responsabile se mi stai ad ascoltare non è un business non sono i soldi ma è l'amore l'amore per te stesso e per chi ami forse non lo hai capito che il sistema malato ha sempre censurato chi dice la verità si responsabile potresti svegliarti una mattina per ricordarti le mie parole quando cade troppa pioggia le alluvioni quando le scosse saranno troppo forti non sai dove andare quando salterà internet i conti correnti allora io non potrò più comunicare qual è il mio valore la libertà di espressione per avvisare tutte le persone che vogliono in azione volontari e attivi di all'altra e società creativa ci puoi trovare e facilmente e questo è il simbolo ma non è questo che ci può salvare è l'argomento su cui cerco di informare l'ho già spiegato quello è un otto riguardo all'infinito dentro un triangolo che l'energia spirituale che il cerchio che il senso orario non è un serpente che si mangia la coda come certi possono pensare non è massone anzi è un'altra cosa che riguarda società creativa in tutto il mondo tutti i volontari che non chiedono soldi ma stanno solo riformando della verità perché non c'è più tempo si responsabile anche tu è l'importante non è soltanto l'avvertimento è perché abbiamo poco tempo caro amico fratello e non capisco perché tu non vuoi ascoltare seguendo il sistema non va bene bisogna cambiare ma prima bisogna salvare l'umanità